Dopo due anni di chiusura a causa del covid, torna a Parigi Japan Expo, la fiera dedicata alla cultura giapponese in ogni sua sfumatura, dai manga ai videogame. Una fiera ipertecnologica che prevede l'ingresso unicamente attraverso una procedura online e giochi di caccia al tesoro con QR code. Ampio spazio della manifestazione dedicato ai videogame, non solamente l'esposizione delle ultime novità, ma anche la possibilità di sfidarsi tra gamer in partite uno contro uno nei videogiochi di cultura giapponese come Tekken, Dragon Ball FighterZ e Mario Kart. Presenti molti gamer famosi su scala planetaria e tutti i brand del settore, Ubisoft, Activision, Square Enix, Nintendo, Playstation, Xbox, Rogue. Le immagini delle partite sono trasmesse su maxischermi fuori dalla gabbia, tra le decine di stand di Japan Expo, lungo spazio a umanoidi di ogni genere e robot a forma di ragno o di formica. Ma il Giappone non è solo il mondo dei videogame, non mancano i tavoli di Mahjong, i corsi di sumo e gli irrinunciabili cosplayer, con i travestimenti nei panni dei personaggi della cultura manga.